Passiamo quindi alla seconda parte della nostra lezione in cui andremo a fare conoscenza con questa libreria che prende il nome di JGraphT che è la libreria Java che utilizzeremo in questo corso, una delle due librerie in Java che lavorano con i grafi che appunto implementa abbastanza direttamente quelli che sono i concetti che abbiamo visto dal punto di vista matematico e soprattutto per noi implementa già tutta una serie di algoritmi che ci permettono di ricercare, navigare, minimizzare eccetera eccetera i percorsi, i vertici sui grafi quindi ci troveremo già molte degli algoritmi che avete studiato anche teoricamente in ricerca operativa e che qua rivedremo alcuni di quali velocemente li troveremo già implementati quindi non dovremo impazzire e implementarci direttamente quindi vediamo un attimo come funziona questa libreria che si chiama JGraphT e poi iniziamo a utilizzarla creando qualche semplice grafo a mano poi nella prossima lezione invece proveremo a creare grafi un pochino più articolati leggendo i dati da un database allora questa libreria si chiama JGraphT, è una libreria in Java ovviamente open source che diciamo così contiene la rappresentazione e la manipolazione dei grafi quindi sia la possibilità di memorizzarli sia la possibilità di eseguire gli algoritmi su di essi ed è particolarmente semplice e comodo da usare perché è fatta per un approccio informatico in cui i vertici non sono semplicemente 1, 2, 3, 4, 5 ma possono essere a loro volta oggetti Java quindi i nostri grafi saranno grafi il cui il vertice è un oggetto e questo sarà ovviamente reso possibile attraverso il meccanismo di generics che è lo stesso che usiamo per le collection quindi di fatto immaginiamocelo come un passo in più rispetto alle collection che già conosciamo questa libreria è contenuta all'interno di un jar JGraphT Core che possiamo aggiungere, dobbiamo aggiungere al nostro progetto ma ovviamente lavorando con l'archetico Maven che abbiamo preparato per il corso c'è già tutto presente questa libreria e con molta documentazione abituiamoci anche a andarla a cercare sul sito ufficiale che è jgrapht.org dal quale internet permettendo troviamo tutta l'informazione, la prima pagina è semplicemente la pagina di informazione e pubblicità ma la cosa importante è la parte di documentazione dove abbiamo sia una guida utente che ci racconta un po' come approcciare la libreria come utilizzarla eccetera, quindi da un po' di documentazione leggibile e allo stesso tempo abbiamo anche i javadoc che ci definiscono invece classe per classe e package per package quali sono i contenuti della libreria e come utilizzarli quindi noi faremo un uso molto esteso, molto pesante di questa documentazione proprio per abituarci ad andare alla fonte a trovare le informazioni che ci servono la libreria jgrapht se date un'occhiata appunto ai javadoc è composta da un insieme di package di cui i più importanti sono il primo ors.jgrapht che è il package padre il package graph che contiene i vari tipi di grafi definiti all'interno della libreria quindi abbiamo visto prima che un grafo può essere orientato o non orientato, può essere semplice oppure un multigrafo eccetera tutte queste varianti sono implementate qua dentro e ovviamente nelle librerie ci sono anche un'implementazione di una serie di algoritmi che stanno dentro il package ALG che raccoglie tutta una serie di algoritmi che sono stati appunto forniti insieme alla libreria questi algoritmi sono molto ricchi nel senso che il package ALG a sua volta è decomposto da tutta una serie di altri sotto package che lavorano sulla connettività dei grafi che lavorano sulla lunghezza dei cammini sui cicli sulla colorazione eccetera eccetera quindi vari problemi dei grafi sono implementati come classi all'interno di questi package non tutte queste classi di problemi hanno lo stesso livello di soluzione quindi ci sono alcune che hanno degli algoritmi implementati molto efficienti diciamo di definitivi, altri invece hanno solamente implementazioni un pochino meno efficienti oppure che non si applicano nel caso generale tenete presente che è una libreria gratuita e quindi questi algoritmi molto spesso sono stati donati contribuiti da sviluppatori che si sono risolti il loro problema e poi hanno messo a disposizione della comunità l'algoritmo che hanno implementato però è molto ricca di algoritmi essenzialmente e quindi ci evita di doverli implementare direttamente da zero dal punto di vista della programmazione questa libreria si regge essenzialmente su un'interfaccia che è definita all'interno del package principale or.jgraph.t e questa interfaccia si chiama graph graph con il parametro v e quindi generico, due generici il parametro generico v indica il tipo di vertice, una qualunque classe quindi se sto facendo un grafo di corsi, universitari, allora la classe v sarà la classe corso e quindi una qualunque classe che ovviamente rispetti le buone caratteristiche di un oggetto java e quindi sia indicizzabile con hash code equals ben definiti perché come vedremo questi vertici vengono memorizzati all'interno di insiemi e mappe e quindi devono essere ben trattabili attraverso la funzione di hash il secondo parametro generico è invece rappresentare gli archi, il tipo di archi allora normalmente i grafi che creiamo avranno solamente due tipi di archi i grafi non orientati avranno un arco che si chiama, che usa la classe default edge quindi è generico rispetto alla classe default edge invece gli archi pesati, quindi gli archi non pesati, forse ho detto orientati prima per errore i grafi non pesati avranno degli archi di tipo default edge i grafi orientati invece avranno degli archi di tipo default weighted edge questa parola weighted ci ricorda che l'arco sarà un arco pesato questi sono due archi basici, il fatto che si ricordano solamente il primo la connessione tra due vertici e il secondo la connessione tra due vertici e il peso associato come numero reale se abbiamo bisogno di memorizzare informazioni in più all'interno degli archi ovviamente siamo liberi di fare una sottoclasse di questo, una sottoclasse dell'altro e quindi costruire un grafo usando una sottoclasse di questi archi dico una sottoclasse perché ovviamente vorremmo riusare la funzionale alternativa che questi archi di default già hanno però per forse il 90% degli esercizi useremo uno o l'altro di queste classi già predefinite quindi il bello di questa libreria è che definisce un tipo astratto grafo ma questo tipo può essere parametrizzato con gli oggetti che ci servono l'importante è come scritto qua che soprattutto l'oggetto vertice deve implementare correttamente i metodi hashcode equals perché all'interno si usano gli set e si usano delle mappe quindi la libreria internamente usa set e mappe per rappresentare i grafi e quindi dobbiamo avere degli oggetti che abbiano ben definito la funzione di hash mentre invece appunto sul caso degli archi possiamo usare queste classi predefinite ma nel caso in cui ridefiniamo la nostra sottoclasse non dobbiamo toccare o modificare l'hashcode equals nativo perché sono quelli che tengono insieme la struttura del grafo quindi essenzialmente un oggetto v completo di hashcode è un oggetto e che o è uno di questi due o nella sua sottoclasse se è una sottoclasse escode equals non abbiamo bisogno di definirlo noi perché vogliamo usare quella che è stata definita per questi vertici e la interfaccia graph cosa contiene? l'interfaccia graph contiene una serie di metodi che ovviamente sono implementati da tutti i grafi perché parliamo di interfaccia? perché i grafi sono diversi c'è il grafo orientato, c'è il grafo semplice, c'è il multigrafo eccetera tutte queste tipologie di grafi implementano tutti questi metodi che sono già definiti nell'interfaccia graph e quindi sono implementati da qualunque classe che debba implementare questa interfaccia e sono i metodi di manipolazione del grafo quindi aggiungi un vertice, aggiungi un arco e vedete che tutte queste funzioni sono parametrizzate rispetto v cioè la classe dei vertici oppure parametrizzate rispetto e, cioè la classe degli archi posso impostare un peso o un arco posso interrogare il grafo per avere il vertex set cioè l'insieme di tutti i vertici di cui il grafo è composto oppure un edge set, cioè l'insieme di tutti gli archi di cui il grafo è composto posso chiedere al grafo se contiene un certo vertice quindi questa è l'operazione contents dell'insieme oppure un certo arco oppure se contiene un arco che colleghi due determinati vertici questo può essere più interessante perché se ho già l'oggetto arco è molto probabilmente che ci sia è molto probabile che ci sia già nel grafo ma se io ti do due vertici lui mi dice se questi due vertici sono connessi oppure no direttamente da un arco possiamo avere l'insieme di tutti gli archi qui noi abbiamo un edge set che mi dà l'insieme degli oggetti E ma anche un get all edges che mi dà un insieme di archi tra due specifici vertici questo ovviamente ha senso solamente se ho un multigrafo in cui tra due dati vertici posso avere più archi se invece ho un grafo non multi tra due vertici avrò un arco solo e se ho un arco orientato io dato l'arco posso ottenere attraverso edge source il punto di partenza di quell'arco o il punto di arrivo di quell'arco get edge target dato un certo vertice oppure il peso di quell'arco quindi sono tutti i metodi per aggiungere, togliere, interrogare gli elementi di questa struttura dati che sono vertici, archi e collegamenti tra vertici ed archi dal punto di vista delle adiacenze dato un vertice posso avere tutti gli archi che entrano incoming edges tutti gli archi che escono outgoing edges o tutti gli archi che entrano ed escono messi insieme edges of il grado di ingresso il grado di uscita il grado complessivo e poi posso avere una serie di metodi di remove che non vi commento perché cancellare è sempre brutto che permettono sono di fatto il duale rispetto agli add permettono di rimuovere degli archi o rimuovere dei vertici dal grafo queste sono le operazioni di base che si possono fare su un grafo quindi immaginate un set di vertici un set di archi quindi potete aggiungere, togliere, ricercare questi due set più tutte le combinazioni tra archi e vertici quindi dato un vertice da milarco dato l'arco da milvertici e così via questi metodi sono implementati tutti da questo da una nutrita serie di classi abbiamo l'interfaccia graph i come interfaccia graph all'interno del package org.jgraphd mentre invece all'interno del sotto package graph abbiamo tante classi quindi tutte queste sono tutte classi che implementano l'unica interfaccia graph globale queste, come possiamo intuire dei nomi queste varie classi che implementano tutte graph rappresentano tipologie diverse di grafi e quindi poi internamente l'operazione di aggiunta di un arco l'aggiunta di un vertice si comporterà in modo leggermente diverso chiaramente perché questa classe farà dei controlli in più specifici ad esempio sul fatto che un arco esista solamente in una direzione oppure in entrambe o così via quindi questa tabella che è tratta della documentazione della libreria ci dice su tutte queste varie classi quali di queste ha gli archi orientati quindi la metà di sotto e quali invece ha gli archi non orientati quale permette o non permette dei cappi quale permette o non permette di avere dei multigrafi quindi archi multipli da due vertici e quali permette o non permette di avere gli archi pesati quindi a seconda del problema che voi avete voi sapete se il vostro grafo è orientato o no se deve essere semplice oppure multi se deve essere pesato oppure no e quindi vi andate a scegliere la classe che sta qui che meglio approssima meglio rappresenta il problema che state cercando di risolvere questo io l'ho rappresentato in modo molto semplice grafico secondo questa matrice di 4x4 classi sono 16 classi diverse e vi do un semplice algoritmo per poter scegliere velocemente qual è la classe di grafo che vi serve io vi faccio tre domande essenzialmente la prima domanda è il grafo che voglio rappresentare è un grafo orientato o non orientato e se è un grafo orientato scelgo la metà destra di questa figura quindi quella rossa se è un grafo non orientato invece scelgo la metà sinistra quindi mentalmente mi faccio la domanda orientato o non orientato e quindi mi oriento sulla parte sinistra o destra di questa tabella poi mi faccio la seconda domanda il grafo è pesato o no? allora se è pesato scelgo gli elementi centrali se non è pesato scelgo invece le corone laterali ricordiamoci che in mente ho già la metà destra o la metà sinistra della tabella quindi dalla metà destra di fatto sto scegliendo la colonna interna o la colonna esterna quindi alla fine ho scelto la colonna se invece il grafo fosse un grafo non orientato e quindi ho scelto prima la metà sinistra allora sto scegliendo tra la prima e la seconda colonna a seconda che io lo voglio è pesato oppure meno la terza domanda che mi faccio è cosa succede con la moltiplicità degli archi quindi la prima riga è per i grafi semplici la seconda riga è per i grafi semplici ma con la possibilità di creare dei cappi la terza riga per i multigrafi la quarta riga per i grafi più complessi quindi sono sia pseudo che multi possono avere sia archi multipli che cappi che self loop entrambe le possibilità e quindi rispetto alla colonna che avevo già scelto prima chiedendomi dandomi la risposta alle due domande sei orientato e sei pesato avrò la terza risposta alla domanda che tipo di archi voglio permettere e qui mi sceglierà la riga e a questo punto ho scelto la singola casella che corrisponde al grafo che mi interessa vediamo che il caso del grafo non orientato sinistra non pesato colonne esterne e quindi di fatto la prima colonna semplice mi dà una classe che si chiama simple graph che è una di quelle più utilizzate chiaramente è un simple graph se invece volessimo un grafo pesato semplice avremmo simple weighted graph invece abbiamo un simple directed graph un grafo semplice orientato quindi questo è il grafo semplice non orientato quell'altro si chiama grafo semplice orientato c'è un pochino di asimmetria nei nomi perché questo si chiama simple directed graph questo si chiama ad esempio default directed graph questo si chiama default undirected graph ma quell'altro lassù non si chiama simple undirected graph ma bensì si chiama semplicemente simple graph cioè alcuni di questi nomi non sono non seguono una terminologia rigida per ragioni storiche perché le prime versioni della libreria non implementavano proprio tutte queste combinazioni e quindi alcuni tipi di grafi avevano un nome più semplice ma avendo diciamo così questa molto semplice casistica non dobbiamo necessariamente ricordarci a memoria i nomi delle classi ok questo se vogliamo è l'ambiente in cui lavoriamo come procediamo per creare un nuovo grafo quindi immaginiamo di voler creare un grafo magari creiamo a partire da un disegno che avremo sulle slide e vediamo come usare la libreria proprio per per creare con questa libreria l'oggetto un oggetto di tipo grafo allora due passi principali il primo passo ovviamente al primo stage devo capire che cosa il grafo contiene quindi la cosa più importante da decidere è qual è la classe V che corrisponde ai nostri vertici quindi un vertice è rappresentato da un numero intero un integer è rappresentato da un nome da un identificativo testuale e quindi l'oggetto vertice sarà una string oppure è un oggetto del nostro modello nella maggior parte dei casi il grafo sarà rappresentato da un oggetto del modello identificato chiaramente attraverso la sua funzione di hash poi la seconda domanda che mi faccio è chiedermi di quale tipo di grafo si tratta e quindi la tabellina che abbiamo visto prima sarà un simple graph sarà un default end directed graph o c'è quello che sarà insomma e scelgo la classe da usare e di conseguenza in funzione del fatto che io abbia scelto che il grafo deve essere pesato oppure no userò un default edge oppure un default weighted edge quindi un grafo di default con un arco di default o un arco invece pesato di default una volta che ho queste due informazioni quindi qual è la classe e qual è il vertice e conoscendo la classe di conseguenza trovo qual è l'arco il tipo di arco con questa semplice regola allora posso creare finalmente l'oggetto grafo quindi creo un'istanza un grafo che è un'istanza della classe graph parametrizzata col tipo di vertice che voglio e il tipo di arco che ho scelto new nome della classe quindi come sempre sto creando un oggetto conoscendo il nome della classe che ho scritto qua in rosso e lo memorizzo in una reference che invece è tipizzata col tipo dell'interfaccia come ormai abbiamo imparato a fare perché tanto tutti questi grafi implementano tutti gli stessi metodi e quindi non ci serve più ricordarci quale sia la classe specifica perché basta che ci portiamo dietro semplicemente il riferimento con l'interfaccia c'è un dettaglio in più che nel costruttore di questo nuovo grafo devo passare un parametro che dica all'oggetto stesso qual è la classe di archi questa è una cosa un po' strana perché uno dice ma scusami il grafo lo sa già quali sono gli archi perché glielo passo come generic ecco però in realtà non gli basta perché lui potrebbe un generico potrebbe essere anche una super classe o una sottoclasse dell'arco stesso e quindi internamente devo dare all'oggetto grafo il riferimento a quale sia la classe di cui voglio rappresentare gli archi la classe che voglio usare per rappresentare gli archi questo perché internamente la classe grafo creerà gli archi come abbiamo visto c'è un metodo add vertex che aggiunge un vertice ma il vertice glielo passo io quindi me lo sono creato io ma c'è anche un metodo add edge nel grafo che aggiunge un nuovo arco tra due vertici quindi i vertici li passo io ma l'arco se lo deve creare lui l'oggetto di tipo edge se lo deve creare lui non lo faccio io il new dell'oggetto arco lo fa lui internamente perché l'arco ha una struttura d'arte interna sua però ha bisogno di sapere come fare a crearlo e quindi ha bisogno della classe che descrive l'arco quindi questo è un dettaglio della reflection dei meccanismi di reflection interni di java in cui posso creare una classe senza avere il nome di quella classe purché io abbia un riferimento al descrittore della classe stessa ecco il descrittore della classe si ottiene col nome della classe punto classe che estrae la proprietà statica classe che può essere usata appunto per creare oggetti di quel tipo a noi non interessa cosa fa dentro la libreria dobbiamo solo ricordarci che ogni volta che creiamo un grafo con archi di tipo default edge dovremo passare come parametro del costruttore default edge punto class nell'altro caso invece passeremo default weight edge punto class nel costruttore del grafo questo è il metodo se vogliamo manuale dalle ultime versioni della libreria hanno anche introdotto un altro metodo una classe che si chiama graph builder anzi graph type builder che ci permette di specificare in modo diciamo di dichiarativo quelle che sono le proprietà del grafo stesso e quindi con una chiamata di questo genere io posso dire sentimi creami un grafo che sia pesato sì o no che abbia degli archi di questa classe che abbia del permette self loop sì o no che permetta gli archi multipli sì o no e che sia orientato oppure no e quindi attraverso questa serie di chiamate questa serie di proprietà in questo oggetto graph type builder specifico che tipo di grafo creare e la chiamata build graph crea il grafo vero e proprio ma non è molto diverso rispetto a a scegliere noi dalla tabella il tipo di grafo che rispetta le varie proprietà quindi i criteri sono sempre gli stessi ecco una volta fatto questo ho creato un oggetto grafo vuoto è come creare una release vuota e ci devo mettere qualcosa dentro e ce lo metto usando i metodi che abbiamo visto della classe graph ad vertex ad edge per raggiungere rispettivamente i vertici e gli archi nel caso in cui ci siano degli archi pesati dobbiamo creare l'arco e poi impostare il peso dello stesso il metodo ad edge normalmente riceve due vertici e restituisce l'oggetto di tipo edge che ha appena creato che ha appena aggiunto questa seconda variante di ad edge è un pochino più di nicchia perché vuol dire che io aggiungo tra due vertici un tipo di arco che mi sono creato io ma questo è abbastanza raro un'altra cosa molto comoda del grafo è che ha il metodo to string quindi basta chiamare to string e lui stampa una versione serializzata del nostro grafo quindi purché noi forniamo e e v opportunamente di equal share code tutto funziona in modo molto 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 semplice sembra quasi di avere una semplice array list proviamo magari con un esempio a implementare un grafo semplice di questo tipo un grafo semplice di questo tipo sarà un grafo lo vediamo qua un grafo non orientato e semplice e non pesato allora se andiamo a fare la nostra trafila dei check ci accorgiamo che questa è un caso in cui vale la classe symbol graph symbol graph rappresenta grafi semplici non orientati non pesati è quella che c'è in alto a sinistra nella nostra tabellina 4x4 allora la creazione del grafo significa semplicemente new simple graph questo grafo le etichette dei vertici sono ABC quindi ipotizziamo che i vertici siano oggetti di tipo stringa il grafo è non orientato quindi come arco scelgo la classe default edge e non la weighted e quindi ovviamente nel costruttore passerò l'informazione default edge punto class qui ho creato il grafo quindi ho creato l'oggetto graph che è un grafo con vertici di tipo stringa e archi di tipo default edge che è un oggetto della classe simple graph a questo punto possiamo popolare questo grafo quindi fare ad vertex abc e aggiunge appunto questi vertici abc al grafo aggiungi un vertice a isolato aggiungi un vertice b isolato e aggiungi un vertice c isolato dagli altri una volta che ho aggiunto i vertici devo collegarli aggiungendo un arco tra ad edge ab posso scrivere ab e posso scrivere ba è indifferente perché questo tipo di grafo che ho creato è un grafo non orientato se voglio aggiungere l'arco a c aggiungerò l'arco appunto tra a e c e quindi molto semplicemente posso aggiungere alla mia struttura dati che nasce vuota nasce come un grafo di zero vertici e zero archi aggiungo via via gli archi i vertici e successivamente via via gli archi normalmente gli archi si aggiungono dopo perché per poter aggiungere un arco i vertici devono essere già presenti e quindi normalmente prima aggiungo tutti i vertici e dopo aggiungerò tutti gli archi che collegano questi vertici proviamo magari adesso a prendere quest'altro grafo che avevamo visto nella parte iniziale l'introduzione e provare a inserirlo a programmarlo direttamente per familiarizzarci con la libreria allora io prendo un progetto Eclipse che da qualche parte avevo già iniziato vuoto che ho chiamato grafi e ho un package diciamo così vuoto model all'interno del quale possiamo mettere un nostro main di prova per poter diciamo così giocare con questo grafo quindi chiamiamolo esempio grafo con il main allora noi vogliamo provare a creare un grafo corrispondente a questo che avevamo visto prima nelle slide quindi un grafo che in questo caso è un grafo semplice perché non ho né molti archi né cappi non orientato gli archi non sono orientati e non pesato quindi è un simple grafo allora in questo caso come procediamo allora chiediamoci un metodo run ad esempio all'interno del quale lavoriamo e poi faremo in modo che il main non faccia altro che chiamare il metodo run esempio grafo creo un'istanza di me stesso new esempio grafo e eg.run quindi sono dentro questo metodo run in cui mi posso creare il mio grafo allora posso creare un oggetto tipo graph graph vedete che quando scrivo graph dovrò ovviamente importare il package.org.jgraph.t e questa i mi ricorda che è un'interfaccia e questo grafo nel mio caso devo decidere il tipo di vertice e il tipo di arco allora visto che questi sono dei vertici identificati da un numero posso benissimo usare integer come tipo di arco e visto che l'arco è un arco non orientato potrò usare default edge che ovviamente dovrò importare dalla libreria org.jgraph.t graph uguale new creo la classe simple graph un oggetto della classe simple graph di cui dovrò dire che la classe che descrive gli archi è default default edge punto class così ho creato questo grafo questo grafo conteneva 5 vertici che sono corrispondenti ai numeri interi e quindi possiamo fare graph punto ad vertex di 1 graph punto ad vertex di 2 e così via potrei anche fare un ciclo per carità anzi possiamo anche farlo for int i uguale 1 i minore uguale a 6 i più più graph punto ad vertex di tanto per vedere che non è nulla di speciale queste cose qua è semplicemente come aggiungere un oggetto di tipo integer a una lista a una collection in questo caso a un set ricordiamoci che i vertici e gli archi sono memorizzati in set e quindi non aspettiamoci che mantengano l'ordine degli elementi cosa abbiamo ottenuto qua abbiamo ottenuto un grafo vuoto o meglio che contiene 6 vertici e nessun arco proviamo a vedere proviamo a stamparlo vediamo cosa succede system system punto out punto print line di graph cosa mi stamperà questa porzione di programma allora proviamo a vederlo mi stampa una struttura di questo genere allora il two string ripercorre abbastanza da vicino la notazione matematica quindi il grafo è una coppia parentesi tonde una coppia di elementi qui c'è la virgola che li separa il primo elemento è l'elenco dei vertici 1 2 3 4 5 6 ovviamente ha chiamato il two string su ciascun vertice in questo caso è degli integer e quindi mi ha fatto vedere il numero intero se fossero stati dei nostri oggetti qui dentro ci sarebbe il two string del nostro oggetto che abbiamo inserito come primo secondo terzo quarto vertice il secondo elemento è l'elenco degli archi che in questo momento è vuoto perché non ho ancora aggiunto nessun arco e allora dobbiamo aggiungerli allora nel nostro grafo che archi c'erano c'era l'arco tra 1 2 2 5 1 5 cominciamo a mettere questi graf punto add edge 1 2 poi graf punto add edge tra vertici di partenza 2 vertici di arrivo 5 poi graf punto add edge c'era anche l'arco tra 1 e 5 1,5 poi mi sono dimenticato gli altri avevamo l'arco tra 3 e 6 e basta graf punta add edge 3 non 2 6 quindi dopo aver aggiunto i vertici abbiamo aggiunto gli archi attenzione gli archi ricevono come parametro dei vertici i vertici che passiamo come parametro qua devono essere i vertici che abbiamo in precedenza aggiunto al grafo in questo caso sono dei numeri interi quindi basta che siano numeri tra 1 e 6 se fossero oggetti dovremmo ovviamente passare qua come primo e secondo parametro dell'add edge un oggetto che sia tra quelli che c'erano nel grafo se io ristampassi il grafo adesso quindi rileguo il programma mi fa vedere che il grafo a questo punto ha assunto anche degli archi l'arco tra 1 e 2 l'arco tra 2 e 5 l'arco tra 1 e 5 e l'arco tra 3 e 6 questi archi sono indicati ovviamente con le parentesi tonde perché sono intesi come archi non orientati se invece questi archi fossero archi orientati se fossimo in una classe di un arco orientato ad esempio se non sbaglio il simple directed graph quindi cambio un attimo la classe ovviamente devo importarla se non luce a rabbia ecco qua quindi ho cambiato solamente la definizione della classe per un attimo rendendo questo grafo orientato quindi con le frecce negli archi e vedete che il modo in cui lo stampa è leggermente diverso per cui gli archi sono indicati con le parentesi tonde per indicare una coppia e non con le parentesi graffe per indicare un insieme quindi per ricordarci che l'ordinamento è utile e ce ne accorgiamo perché noi possiamo aggiungere al grafo dopo aver messo 1,2 possiamo mettere anche 2,1 e viene trattato come vertice distinto vedete che io ho aggiunto questo mi dice che c'è l'arco 1,2 ma c'è anche l'arco 2,1 all'interno del grafo se io provassimo a fare la stessa operazione sul grafo non orientato quindi tolgo direct e rimetto il grafo non orientato cosa succede se inserisco l'arco 1,2 e inserisco l'arco 2,1 e succede che in realtà di questi archi ne viene inserito uno solo perché il secondo non è altro che uguale al primo e allora lui dice questa documentazione della funzione ops add edge vediamo se riesco a ingrandirla dice che questa la possiamo guardare sul javadoc dice che crea un nuovo add edge crea un nuovo arco nel grafo che va dal versito di partenza al versito di arrivo e restituisce l'arco creato se ci interessa se il grafo nel caso in cui allora alcuni grafi non permettono archi multipli il nostro caso è uno di questi non permettiamo archi multipli siamo un grafo semplice in questo caso allora se il grafo contiene già un arco da quella sorgente a quella definizione allora questo metodo non cambia il grafo cioè non genera un errore cercando di aggiungere due volte lo stesso arco e restituisce null è chiaro che in un caso di un grafo non orientato avere l'arco 1-2 e l'arco 2-1 è lo stesso arco e quindi lui dice quest'arco c'è già non lo aggiungo nel caso di un grafo orientato un grafo diretto l'arco 1-2 e l'arco 2-1 sono due archi diversi e quindi il secondo viene aggiunto così come qui c'è anche scritto l'avevamo detto prima parola che i due vertici partenza e arrivo devono già essere contenuti nel grafo altrimenti troveremo una bella eccezione che ci dice no guarda che questo oggetto che mi hai passato come partenza o arrivo non è un vertice del grafo e quindi non lo considero quindi come vediamo è abbastanza semplice i grafi si comportano come dicevo abbastanza in modo simile rispetto alle collection che già conosciamo andiamo avanti sempre sulla conoscenza delle procedure chiave della libreria quindi riprendiamo questa presentazione e vediamo una volta che ho creato un grafo cosa posso fare per interrogarlo per avere informazioni sul grafo stesso allora una volta che il grafo ho creato io posso usare i metodi definiti nell'interfaccia graph appunto per avere l'insieme di tutti i vertici quindi il vertex set mi restituirà niente di meno che questo un insieme composto da questi elementi graph.vertexset oppure posso chiedermi oppure posso chiedermi se il grafo contiene o non contiene il vertice in realtà il vertice l'ho messo io quindi magari so già quali sono soprattutto posso chiedere se contiene un arco tra due vertici oppure posso interrogare dato un vertice avere tutti gli archi oppure l'arco tra due vertici o l'insieme di archi tra due vertici come abbiamo visto sono tutti i metodi della classe graph che ecco come vi ho accennato prima è molto ben documentata questa classe quindi già lo do che è molto dettagliato quindi vi consiglio proprio anche di andare a leggere è una libreria in cui la documentazione è scritta bene e quindi si impara anche andando a leggere la documentazione della libreria la cosa un pochino più scomoda da fare è quella di lavorare con gli archi perché se io voglio sapere dato un vertice quali sono gli archi collegati me lo dice se voglio sapere dato un vertice quali sono gli altri vertici collegati adesso è un pochino più complicato perché vuol dire che devo estrarre un vertice dal vertice farmi dare gli archi ogni arco ha questi tre metodi che mi dicono qual è il vertice di partenza il vertice di arrivo e il suo peso lasciamo perdere il peso che per ora non ci serve però immaginiamo di voler sapere a chi è collegato ho prenduto il clip perché la figura è troppo facile a chi è collegato il vertice 3 allora io potrei farmi dare dalla libreria il vertice tutti gli archi collegati a 3 e in questo caso mi restituirà questo arco 3-6 un insieme composto da un arco solo però io non so se quell'arco è stato memorizzato come 3-6 o come 6-3 che in questo caso sono equivalenti allora dovrò andarmi a chiedere guarda può darsi che 3 sia la sorgente e 6 sia il target oppure inveceversa 3 sia il target e 6 sia la sorgente a seconda di come è stato memorizzato poi semanticamente equivalente devo trattarli in modo equivalente questi due archi ma magari sono memorizzati in un modo oppure nell'altro quindi diventa solamente un po' scomodo dal punto di vista della programmazione io ho l'arco e poi per sapere qual è il vertice che sta dall'altra parte devo fare un if guarda io sono per chiedermi io sono la sorgente e la destinazione perché sia la sorgente chi sta dall'altra parte della destinazione oppure viceversa allora questa libreria ha molti diciamo così piccoli intoppi di questo genere cioè operazioni che sono concettualmente semplici ma poi un po' scomode da usare e perché se usiamo diciamo così solamente le funzioni che sono fornite dall'interfaccia graph che abbiamo visto prima ma per fortuna chi ha creato la libreria visto che si accorgeva che aveva lui stesso sempre gli stessi problemi ricorrenti ha creato una classe di utilità una classe di utilità che è utilissima è una classe statica cioè di fatto composta da soli metodi statici che si chiama graphs questa classe graphs contiene dei metodi che sono di fatto delle scorciatoie non contiene nulla che non sia possibile fare con la classe con i metodi normali dei grafi ma dei metodi un pochino più comodi da usare ad esempio ha un metodo molto banale add edge che permette di aggiungere un arco specificando sorgente destinazione e peso ecco questo metodo qua non c'è nella classe graph normale per raggiungere un arco pesato devi prima aggiungere l'arco prendere l'oggetto edge che è stato creato e subito dopo specificare per questo edge il suo peso quindi scrivere due istruzioni anziché una qua ne scrivi una sola però ti permette di rimanere concentrato su quello che stai facendo questi poiché sono metodi statici di una classe graphs non sono metodi del mio grafo e quindi per sapere su quale grafo lavorare loro ricevono sempre come primo parametro g g g vedete che c'è il grafo come primo parametro quindi devo spassare il grafo e poi le operazioni da fare ma poi altre operazioni comode ad esempio sono add all vertices quindi se io ho già l'elenco di vertici in una collection perché magari mi arriva da una query del DAO allora anziché fare un loop per inserirli in uno a uno chiamo il metodo add all vertices che lui mi prende in automatico tutti i vertici della collection e mi le aggiunge al grafo è come dire il loop anziché farmelo io nel mio codice lo faccio fare alla classe alla classe graphs che per semplificarmi la vita niente di più così come dicevamo prima trovare i vertici adiacenti c'è questo metodo neighbor list of che mi dato un grafo e il vertice di partenza mi dà non la lista degli archi ma direttamente la lista dei vertici che trovo dall'altra parte quali sono i vertici a me adiacenti neighbor list sono tutti predecessori e successori invece sono solamente quelli che sono collegati dagli archi uscenti o dagli archi entranti in un grafo orientato ovviamente quindi questi tre c'è sempre la versione quando si parla di archi c'è sempre la versione per l'arco non orientato che è neutra e le due versioni per gli archi orientati entranti e uscenti e così via poi ci sono altri altri metodi che vediamo sono potremmo trovare utili ma i primi elencati qua sono poi nella pratica anche quelli che sono più utilizzati e più comodi da usare quindi ricordiamoci quando vogliamo fare diciamo un'operazione di base i metodi che usiamo sono sì i metodi implementati dalle classi grafo e quindi che troviamo sul nostro oggetto graph che abbiamo creato ma oppure appunto per comodità nostra ci sono anche i metodi inseriti all'interno della classe graphs che la classe dicevo sono metodi statici quindi li dovrò chiamare come graphs punto add edge e passare come primo parametro anche il grafo quindi ricordiamoci di andare a guardare sia per la creazione del grafo metodi un pochino più semplificati per la navigazione quindi trovare direttamente da vertice a vertice adiacente senza dover fare tutta l'interrogazione dell'arco per capire in che modo è orientato e così via vabbè questo era un semplice esempio che era tratto da questo piccolo grafo ma noi ovviamente all'interno di Eclipse abbiamo fatto un esempio un pochino già più ricco se volete provare a cimentarvi quindi l'ultima slide di questa presentazione vi dà un esempio di un grafo un pochino più grandino che possiamo provare a costruire a mano ovviamente non ci divertiamo molto a costruire i grafi a mano inserendo i vertici uno e uno da codice Java ma quello che vedremo dalla prossima lezione in avanti sarà prendere un database che contiene delle informazioni e magari alcune tabelle del database rappresentano i vertici o corrispondono i vertici alcune reazioni del database corrispondono agli archi e quindi creeremo un grafo partendo dalle informazioni che estraiamo da un database e quindi per ora questo è il primo codice lo rimetto qua il primo codice che abbiamo scritto con la nostra libreria jgraph.t ma da adesso in avanti ovviamente non creiamo più le cose a mano ma le creiamo attraverso il DAO e il model per poter popolare i grafi anche di una certa dimensione più che altro con un certo significato la volta prossima ci divertiremo costruire il grafo della metropolitana della città di Parigi per ora chiudo la lezione e vi saluto